Il tennis tavolo, l'atletica, tutto quello che fai, il sport, è perfetto. Non ti preoccupare, non si rompe. Non si rompe, non si rompe, stare tranquillo. E' una persona perciò. Dove uscire qua. Devi uscire il piede da là, esci. Adesso piegati piano piano con le ginocchia. Ok, adesso provo a scendere piano piano. Le gambe non devono passare così, le devi distendere. Aspetta, iniziamo la parte e finiremo le gambe. Ok, tranquilli, ci riusciamo. Poi sarò la sigla. Facciamo uscire il commento? Aspetta, Braddy. Ok, bravo, bravo. Oh, finalmente un applauso. Mi ricordo che ci finiscono. No, perché ero un po' desolato. Con l'entrata. Allora, passa il braccio sul perfino. Aspetta. Ok, finalmente uno che ha zaccato. Mi ricordo che ci finiscono. Ma davano solo il messaggio. C'è un po' dice sopra. Così, bravo. Perfetto. Prope da fare in avanti. Ci sta andando indietro. No, no, ma non ti sta andando. Sei partito sbagliato. Dai, va bene. Vai, vedola, vedola. Non ti alzare. Ci stai. Ci stai. Ce la fai a scendere un altro poco se hai abbinato così. E' arrivato. Eh, direi che è quello da tutte facce. Ovviamente le misure sono quelle mie. La pedalata qualunque è fluida. Questa è la pedalata.